Bandecchi, perché questa scelta di candidarsi all'Europeo? Una scelta necessaria secondo me, dati gli ultimi 30 anni nazionali e dato le cose che sentiamo tutti i giorni, sembra che tutto ciò che non va in Italia sia un problema dell'Europa, come se i nostri 76 onorevoli in Europa non esistessero. Noi abbiamo 10,8 degli onorevoli che partecipano all'Europa, su 700 ne abbiamo 76. Tutte le volte mi sento dire che qualunque tipo di problema che non va in Italia non siamo capaci di avere un'autonomia energetica, non siamo capaci di avere una riproduzione industriale, tutto quello che succede, succede per colpa dell'Europa. Allora se questa è un'incapacità dichiarata, mi sembra da molti governi e anche da molti partiti. Il suo è un movimento né di destra né di sinistra, si rivolge ai moderati di centro? No, guardi, noi non siamo moderati, siamo rivoluzionari di centro, noi ci rivolgiamo alle persone equilibrate, ci rivolgiamo a coloro che capiscono che è arrivato il momento di fare le cose sul serio e quindi che è arrivato il momento di lavorare, che è arrivato il momento di non mettere solo disoccupati o falliti nel mondo della politica. Bisogna superare lo scoglio del 4%, ci riuscirete? Io non lo so se noi arriveremo al 4% o meno, vede purtroppo nel nostro simbolo, che la invita a riflettere, c'era scritto Bandecchi, ci hanno fatto levare il nome Bandecchi, perché evidentemente qualcuno ha paura del nome Bandecchi scritto dentro il simbolo, quindi ci sarà il simbolo di alternativa popolare ma senza il nome Bandecchi dentro. in un momento dove tutti mettono il nome scritto, che è addirittura la sinistra, io vengo obbligato a toglierlo. Non so che cosa abbia fatto di male in questa nazione, forse è perché do da lavorare a 2.000-2.500 persone, forse perché c'è un indotto intorno a me di 10.000 persone che lavora, forse perché sono riuscito a ottenere dei risultati e per questo tutti oggi pensano di poter parlare di me come se fossi chissà che, ho lavorato tutti i giorni, ho fatto quello che dovevo fare e vado avanti, c'è qualcosa secondo me che non va negli altri, gli altri hanno paura oggi di questo partito che è un partito scritto dal Partito Popolare Europeo, lei lo sa che noi presenteremo le liste fra due giorni, ma dopo le ultime leggi che hanno fatto il 24 di marzo, noi dobbiamo aggiungere tutta una serie di spiegazioni per far capire che noi che siamo tra i fondatori del Partito Popolare Europeo,